E al Day 1A ci troviamo in compagnia anche del nostro Stefano Cardinale, sempre presente Stefano? Sì, sì, sempre presente all'ISOP, insomma è un evento che faccio volentieri, ovviamente al di là del risultato dell'ISOP precedente, insomma dove ho fatto tavolo finale, poi comunque ritrovo una bella organizzazione, una bella compagnia Col team siamo, diciamo con il nostro team siamo sempre abbastanza presenti, almeno una decina di noi lo fa frequentemente, qualcuno ha fatto anche la tappa di San Marino, quindi faccio volentieri E oggi in quanti siete? Oggi dovremmo essere in 6 o in 7 del nostro team e qualcuno gioca domani, compreso il presidente del team, insomma che gioca domani Ok, quindi siete pronti per, insomma Siamo secondi in classifica col club e quindi speriamo insomma di andare bene, di andare avanti Sì, questo sicuramente Adesso come sta andando? Eh insomma, siamo un po' sotto average, però è appena partito, no no no, siamo un po' sotto average, ma è appena partito è lungo, insomma sono le prime fasi Il torneo è abbastanza lungo, insomma è deep, quindi c'è tanto gioco ancora da fare Assolutamente, ti auguriamo in bocca al lupo e ti lasciamo andare a cena Un saluto a tutti Un saluto a tutti